La serie televisiva Terra Amara ha letteralmente catturato l'attenzione di milioni di persone, diventando una di quelle storie che ti tengono incollato alla sedia, episodio dopo episodio. Ti voglio raccontare un po' di questa storia, così, come se stessimo chiacchierando davanti a un caffè. Immagina un po' di trovarti davanti a un puzzle gigante, con tanti pezzi da mettere insieme. Questo è un po' il lavoro di Fikret, uno dei personaggi principali della storia. Fikret è furbo, sa quello che fa e ha un obiettivo ben preciso. Vuole fare luce su un grosso pasticcio, una di quelle situazioni che ti fanno rimanere con il fiato sospeso. Nel mezzo di tutto questo casino c'è Abdul Qadir. Lui è uno dei cattivi della serie, di quelli che non ti aspetti, con un sacco di segreti nascosti. Fikret deve usare tutto il suo ingegno per raccogliere indizi, un po' come quando cerchi di capire un mistero leggendo un libro giallo o guardando un film di suspense. La storia prende una svolta davvero interessante quando Ali Rizza, un altro personaggio chiave, decide di svelare tutto quello che sa al procuratore. È un momento top, credimi. Immagina la scena. La polizia che arriva a sorpresa nell'officina di Abdul Qadir, quel posto che sembra normale ma che in realtà nasconde un sacco di segreti. È un po' come quando trovi l'ultima tessera che ti serviva per completare il puzzle. La cosa bella di Terra Amara è che non ti annoi mai. Ogni episodio ti lascia con la voglia di scoprire cosa succederà dopo. E non è solo una questione di buoni contro cattivi, è molto di più. È una storia di coraggio, di astuzia, di quelle sfide che sembrano impossibili ma che ti tengono incollato allo schermo, episodio dopo episodio. Quello che voglio dire è che Terra Amara non è solo una serie televisiva. È un viaggio incredibile in un mondo pieno di misteri, intrighi e colpi di scena. E Fikret? Beh, è il tipo di eroe che tutti noi vorremmo essere. Intelligente, determinato e sempre pronto a fare quello che serve per far trionfare la giustizia. In poche parole, se non hai ancora visto Terra Amara, ti stai perdendo qualcosa di grosso. E chi lo sa, magari dopo aver visto un paio di episodi, ti ritroverai anche tu a cercare indizi e a cercare di capire cosa succederà dopo, proprio come se fossi diventato parte della storia. Spero che questa chiacchierata ti abbia fatto venire voglia di scoprire di più su Terra Amara. È una di quelle storie che non dimenticherai facilmente, te lo garantisco. La trama si complica ulteriormente con l'arrivo di Hamran Saeed, un temuto capo mafioso libanese, le cui intenzioni sono mosse da un desiderio di vendetta per l'uccisione di suo padre Fuad. Convinto che Haqqan e Abdul Qadir siano i responsabili, Hamran intraprende una missione personale per vendicare la morte del padre, inviando loro foto minacciose segnate da croci rosse. Questo gesto simbolico pone Haqqan e Abdul Qadir di fronte alla minaccia imminente di essere eliminati, aggiungendo un ulteriore livello di suspense alla narrazione. In parallelo alla trama principale della serie, in Italia si sta diffondendo un innovativo metodo per migliorare l'udito, che sta guadagnando popolarità grazie ai suoi risultati promettenti. Questo elemento, sebbene sembri non collegato direttamente alla trama di Terra Amara, potrebbe essere visto come una metafora dell'importanza dell'ascolto e della comprensione, temi ricorrenti all'interno della serie. Nel corso degli eventi, Abdul Qadir e Haqqan credono di aver finalmente neutralizzato la minaccia rappresentata da Hamran catturandolo. Ma in un drammatico colpo di scena, Abdul Qadir uccide Hamran. Questo atto porta i due a credere di aver risolto tutti i loro problemi, permettendo loro di pianificare un nuovo inizio. Abdul Qadir sogna di iniziare una nuova vita con Betul, la sua amata, ma le sue aspettative sono destinate a essere infrante. La decisione di Abdul Qadir di trasferirsi a Smirne, nella speranza di lasciarsi alle spalle i suoi crimini e ricominciare, rappresenta un momento di svolta per il personaggio. Tuttavia, Fikret non ha ancora detto la sua ultima parola, e la lotta tra i due è lungi dall'essere conclusa. Ti racconto una storia che potrebbe sembrare uscita da un film, ma è una delle tante vicende appassionanti di Terra Amara. Figurati la scena, è una di quelle giornate tese, di quelle che senti che qualcosa sta per succedere. E poi, boom, arriva la notizia che cambia tutto. Ali Riza, uno di quelli coinvolti fino al collo in questa storia intricata, decide di parlare. Immagina Ali Riza, con quella faccia da chi ha appena preso la decisione più difficile della sua vita, che rivela un segreto così grosso da poter scuotere le fondamenta di tutto. Abdul Qadir, sì, proprio lui, ha ordinato l'assassinio di Fekeli. Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti, cambiando le carte in tavola. Ora, pensa a Abdul Qadir? Quest'uomo, con tutti i suoi segreti e i suoi piani, si vede crollare il mondo addosso. Una confessione, solo qualche parola, e la sua vita prende una piega inaspettata. Dopo un saluto frettoloso a Hakan, che immagino con uno sguardo tra il sorpreso e l'incredulo, la polizia arriva. Sì, proprio come nei film, con le sirene e tutto il resto, e lo porta via. Lo scenario è da brividi. Abdul Qadir, che viene ammanettato e portato in carcere con l'accusa di omicidio. E Hakan? Ah, Hakan è lì, da una parte sollevato perché finalmente viene fatta giustizia, ma dall'altra si trova in mezzo a un mare di guai. Non ha neanche il tempo di assaporare questo momento che già si trova davanti Vahap, un altro personaggio di questa storia che sembra non finire mai. Vahap, con quel suo modo di fare che mette subito in chiaro le cose, non perde tempo e mette sotto pressione Hakan. Vuole che lui aiuti a liberare Abdul Qadir. Sì, hai capito bene. La storia prende una svolta inaspettata, introducendo nuovi dilemmi e tensioni che nessuno aveva previsto. Ti puoi immaginare la scena, vero? Hakan lì a pensare a cosa fare. Da una parte la giustizia, dall'altra la pressione di Vahap. È come se fosse in mezzo a un tira e molla, con il destino di Abdul Qadir appeso a un filo. Questa svolta nella storia apre un mondo di possibilità su cosa potrà succedere dopo. Chi avrebbe mai pensato che la confessione di Aliriza avrebbe scatenato una catena di eventi tanto complessi? E Hakan riuscirà a gestire questa pressione? E Vahap? Quali sono i suoi veri piani? Ti lascio con queste domande, perché in storie come queste, l'unico modo per scoprire cosa succederà è continuare a seguire, episodio dopo episodio, lasciandosi trascinare in questo vortice di emozioni, tensioni e colpi di scena che solo Terra Amara sa offrire, e ti assicuro non finirà di sorprenderti. Attraverso queste intricate vicende, Terra Amara riesce a mantenere alto l'interesse degli spettatori, mescolando abilmente dramma, vendetta, amore e redenzione, e confermando il suo posto come una delle serie televisive più appassionanti e coinvolgenti del momento. Ti piace Abdul Qadir come personaggio? Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara.